Farmacia Vitolo, promozioni e professionalità. Con la Farmacard sconto del 25% sui farmaci a pagamento. Attivo inoltre il servizio di consegna domicilio gratuita dei farmaci con il ritiro della ricetta presso il medico di base. La Farmacia Vitolo vi aspetta anche per prenotazione CUP e pagamento ticket. Per voi anche un ampio reparto di dermocosmeti con i migliori brand. La Farmacia Vitolo è in viassini scalchi a nocciare inferiore. Grazie per la visione!